Quarta vittima in pochi giorni in Abruzzo a causa di un incidente agricolo. E' successo questa mattina a Montesilvano, dove un uomo di 69 anni ha perso la vita travolto dalla sua motozappa. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava facendo retromarcia col mezzo agricolo, quando a causa di un dislivello ha perso l'equilibrio senza riuscire a fermare la macchina. Si tratta dell'ennesimo fatale incidente sui campi. Il 27 giugno un 75enne è morto nel Chietino, ribaltandosi col trattore. Il 29 a Francavilla al Mare un 72enne è stato ucciso da un infarto, mentre tentava di governare la motozappa che stava per scontrarsi con un albero. E ancora il 3 luglio, nel Vastese, un 46enne è deceduto travolto dalla Mietitrebbia. Fino a arrivare ad oggi, non solo a Montesilvano, ma anche Cugnoli, dove un uomo di 74 anni si è ribaltato col trattore e ora si trova in prognosi riservata all'ospedale di Pescara. A causa della fatica e della pericolosità degli attrezzi utilizzati, lavorare la terra si conferma uno dei mestieri a più alto tasso di mortalità. Nel 2018, in Italia, si è registrato un morto ogni tre giorni a causa di un incidente agricolo.